Allora, tu avevi il piacere, e noi più di te, anche il nostro pubblico a casa sono sicura, di farci ascoltare qualcosa proprio che riguarda Paolo Limiti, Giovanna. Sì, perché lui ha scritto delle grandi canzoni, ha scritto canzoni meravigliose, però l'ultima che ha scritto, che è appunto Dietro un grande amore, ho avuto l'onore di musicarla io. La vogliamo ascoltare? Te la posso accendere? Devi, devi, sono felicissima. Cosa mai ci sarà? Dietro un grande amore, qualche strana follia, voglia di morire, alchimia della pelle, decisioni delle selle, che cosa è che fa mai grande? Un grande amore Applauso dallo studio, ma veramente, ci sono i cameramen che stanno applaudendo Giovanna.